Salve a tutti friends dal vostro supercorri Stadam! Torna Formula 1 News Le nostre news del mercoledì Allora ragazzi c'è da dire che ce ne sono tantissime di news questa settimana Si potrebbero fare 3 ore di trasmissione Io ho scelto un po' quelle un po' più divertenti e importanti da citare Rifacciamo il solito format Qua con io che vi faccio vedere le notizie dove le prendo Perché ci stanno le solite capre che dicono No però chissà dove te le stai inventando Non è vero Noi prendiamo notizie da siti ufficiali e affidabili Se no le notizie io non le prendo Perché non faccio le figuracce di merda Per dare un info che non è quella reale Non a caso la minchiata del secondo e mezzo Al simulatore più veloce della macchina Che era una minchiata Molte l'hanno riportata E noi non l'abbiamo riportata E avremmo potuto fare migliaia di visualizzazioni Allora ho scelto le migliori Come al solito le migliori Quelle che mi hanno colpito di più Ci sarebbero altre cose da dire Faremo una puntata di breaking news Prima della gara Quindi teoricamente la possiamo fare domenica mattina Ma se ho la possibilità la potremmo fare pure prima Quindi faremo quindi un'altra puntata di news Perché c'è di tutto Dopo parleremo nello specifico in altri due video Che usciranno oggi Sia di Leclerc che di Michael Schumacher Perché c'è veramente tanto tanto da dire Sono cose che non mi stanno piacendo per niente Allora la prima notizia Aspettate Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a tutti i miei canali Lasciate un like Seguitemi sui miei social C'è il canale della palestra Corrado Esposito Personal Trainer Iscrivetevi perché davvero C'è di tutto e di più La vi divertite Ringrazio chi ha donato Il mese scorso abbiamo raccolto Totale 350 euro Che abbiamo donato Al terremoto in Siria e Turchia Vi faccio passare qui i nomi di chi ha donato Ringrazio tutti perché siete stati preziosi E potete donare tutti i giorni anche solo un euro Trovate il link in descrizione Super Corris and Friends Ragazzi c'è il canale Telegram C'è il gruppo Telegram Iscrivetevi se volete parlare con me Gli altri ragazzi di Formula 1 Avere le news in anteprima C'è il canale delle offerte Super Corris offerte Amazon Dove vi metto tutti i giorni Le migliori offerte di Amazon C'è tutto il merchandising ufficiale Di Ferrari 2023 Di Red Bull E in più niente Questa Partiamo Allora Toto Furioso Qua praticamente Dalla serie Drive to Survive Arriva Ufficialmente la ripresa Di quello che accade in Canada Se voi vi ricordate In Canada Ci fu una lite furibonda E si vocifra Che Toto Wolf Andò alle mani con Chris Horner Per il discorso Port Posing Ed infatti Qua si dice La questione Port Posing Dopo il Gran Premio di Baku Fosse diventata scottante Lo si era capito Ma vedere Toto Wolf Rovesciare la propria furia Sugli omologhi Degli altri team Durante la riunione in Canada E' uno spettacolo imperdibile Wolf Grande comunicatore Perfettamente consapevole Del potere delle telecamere E vabbè Ha sclerato Toto Wolf E praticamente Cosa ha detto Wolf Dice i suoi colleghi Team Principal Questo è un gioco pericoloso Se dovesse succedere Un incidente Per il Port Posing Tu Anna Wolf Saresti delle merde E me la pagheresti Quindi Wolf Molto pesante Nelle sue dichiarazioni Nella riunione Del Gran Premio del Canada Che di fatto ha dato Possibilità a Mercedes Di aggiustare la stagione Gli rispose Chris Horner Gli disse Cambia la tua cazzo di macchina Se hai un problema E là Successe proprio il putiferio C'era appunto Il Team Principal Della Ston Martin Che prendeva appunti E' successo un bordello Successe perché E' là Si vocifara che Wolf Abbia provato A mettere il mare addosso A Chris Horner Pensate un po' voi Cosa pazzesca E' incredibile Andiamo a vedere di qua Bomba della McLaren Ovvero McLaren imbarazzante Norris Inaperta la porta Red Bull Sarebbe una notizia pesante Per Ferrari Perché noi Norris Lo vorremmo vedere Sulla rossa Comunque Nonostante l'assicurazione Di Lando Norris Che rimarrà con McLaren Per un futuro Prevedibile Il pilota britannico Interessante Interessante Finchè continueremo A imparare A un team Perché se no mi si intesa Tutto Wurz ha detto Che comunque Si aspetta di vedere Una battaglia A Mercedes Ferrari A inizio mondiale Soprattutto Quindi l'ex pilota Benetton Fa questi calcoli E poi lui parla Della Della situazione A centrogriglia Visto che siete stati In tanti A chiedermelo E ve l'ho detto Quello che pensavo Però vediamo Che dice uno Che sta in mezzo Alla Formula 1 Lui dice La scuderia Che ha fatto I migliori passi in avanti È la Stone Martin La sua simulazione Del passo gara È stata davvero interessante E promettente Credo che possano fare Una stagione da capolista All'interno della zona Dei team di metà classifica Chi invece è scesa È la McLaren Il percorso potrebbe essere L'opposto Ha fatto un gran passo indietro Sembra Sembra che abbiano sviluppato Una vettura Con troppa resistenza All'aerodinamica Nonostante Aggiungo io Sia McLaren Che Che Aston Martin Hanno comunque copiazzato Quella Però È preoccupante Sta situazione Della McLaren Ragazzi Perché sembra Che tutti la diano Per spacciata E non è una cosa Che fa piacere Soprattutto a noi appassionati Della Formula 1 Perché McLaren È McLaren Fernando Alonso Dedica parole bellissime A Michael Schumacher Mi ha fatto piacere Questa cosa E ve l'ho voluta riportare Perché Alonso Ha parlato di Schumi I due hanno battagliato Inizio anni 2000 Nel Mondiale 2006 Se la sono giocata Fino alla fine E ci furono pure Polemiche Dopo Monza Perché Ferrari Fece penalizzare Alonso Alonso Si incazzò Però vediamo cosa dice Nonostante la loro rivalità Riusciva comunque Di Michael Schumacher E di Michael Schumacher Fa piacere Perché tra i due Erano volate Parolone Questo è il fulcro Del video che faremo Stasera Perché ragazzi È successo un bordello Perché Eddie Jordan Proprietario Dell'omonima scuderia Per chi segue la Formula 1 A più di tre mesi Come tanti Che poi invece Parlano di Formula 1 La seguono da tre mesi Eddie Jordan Apre la propria scuderia Esordisce in Formula 1 Nel 91 Corre fino al 2005 Con la Jordan Ottiene anche grandi risultati Nel 99 Rotta per il Mondiale Fa esordire piloti Come Michael Schumacher Nel 91 Pensate un po' voi Parla di Schumacher E dice sostanzialmente Schumacher È qui Ma non è con noi E questo ha scatenato Un bordello Di casini Che Poi ve lo dirò In un video specifico Quindi praticamente Allora Eddie Jordan Mick Schumacher Allora Vediamo qua che dice Le condizioni di salute Di Michael Sono attualmente sconosciute Al pubblico Alla stampa Io già ne ho parlato In diversi video E vi ho detto Che comunque Secondo me È un vegetale Purtroppo Vabbò Ha avuto un incidente È stato dimesso all'ospedale E trasferito All'istruttore di abilitazione Comunque Jordan Ha fatto intuire Le condizioni Del leggendario Pilota tedesco Che è andato a trovare E ve lo dico io Perché qua non si vede Non si capisce Perché la notizia Parla di Schumacher Parla di Rufi Comunque dice Purtroppo È con noi Ma non è con noi Quindi è fisicamente vivo Ma Sembra non avere Una coscienza Reale Questo è il problema Quindi teoricamente È in coma Andiamo a vedere Ne parliamo dopo Andiamo a vedere Vasseur E qua è un altro problema Vasseur Defende I test Ammette Leclerc Non è contento Quando vi ho detto Io ragazzi Che non è tutto Rosa e fiore Voi mi state dicendo No ma qua Ma là sopra La Ferrari La Ferrari Con Vasseur Ammette Che Leclerc È scontento Della situazione Se inizi Prima prove Del Gran Premio Del Baren Eh però Comunque continua Su Leclerc Se fossero contenti Sarebbe un errore professionale Parla In termini di modalità di motore Beh questo è vero Chiaramente Vasseur dice Siamo in una fase embrionale Tutti stiamo provando E quindi dovevamo capire la vettura Però è anche vero Che Leclerc Si è lamentato tantissimo Ragazzi Tantissimo Che non sente Il bilanciamento dell'auto Quello è il problema E ora Questa è un'altra notizione Importante Perché Sembra Anche A detta di tanti esperti Che Ferrari Abbia fatto una vettura Più vicina A quella di Carlos Sainz Rispetto a Leclerc Che sarebbe un danno Ragazzi Perché se fosse così Leclerc Che ve l'ho detto Se ne va Vasseur Ha già chiamato Ad una decisione Vasseur Ha già chiamato Ad una decisione Importante Dopi primi mesi Dal suo approdo In Ferrari La nuova vettura Ha palesato Nei suoi primi Vagiti Un assetto Sottosterzante Poco consono Allo stile di guida Di Leclerc Che si è lamentato molto Infatti In questi giorni E' più vicino A quello di Carlos Sainz In una situazione Molto simile A quanto visto Nel 2022 Con la Red Bull Allora Newey e Horner Presero una decisione Netta Ovvero Spostare il lavoro Dell'RB18 Verso Verstappen Quello che vi dissi io Vi dissi A inizio mondiale La Red Bull Era una vettura Che riusciva a guidare Anche Perez Con tutti i suoi difetti E infatti Fino a Monte Carlo Tra Perez Verso Verstappen La differenza Era minima Poi si spostò Lo sviluppo Tutto verso Verstappen I risultati Sono stati questi Ferrari Chiaramente Adesso dovrà vedere Chi va meglio in pista Perché durante la stagione Devi prendere una decisione La macchina Va sviluppata Più per Leclerc O per Sainz Se Sainz Si trovasse davanti Inizio stagione Ragazzi Sarebbe un problema Ma molto grande E poi Vediamo Chris Horner Che sentenza Ferrari competitiva Alonso nella lotta Vediamo cosa dice Il team principal Red Bull Fare una gerarchia È molto complicato La Ferrari Sembra essere Molto veloce Mentre capire Lo stato di forma Della Mercedes È difficile Potrebbero nascondere qualcosa Come vi ho detto io Ma non lo so Sarà più chiaro Settimana prossima In Barenna Aston Martin Ha sicuramente Fatto un passo in avanti Il loro concetto di macchina Gli ha garantito La possibilità di migliorare In maniera definitiva Non sembrano troppo lontani Specialmente Alonso È sembrato forte Beh raga Qua da dire Che Aston Martin Lotterà per il mondiale No Per me Aston Martin Può essere la migliore Oltre i tre top team Ma non lotterà per il mondiale Mi sembra che Horner Stia cercando un po' D'arrampicarsi Sopra gli specchi Bella notizia Per tutti noi appassionati Della Formula 1 Da tanti anni Perché ragazzi Guardate qua Il layout Del Gran Premio Di Barcellona Torna a quello Storico Su cui corre anche La MotoGP Attualmente E dove si correva Fino a parecchi anni fa Come vedete qua Nell'immagine Viene tolta la chicane Quella chicane Dove tu arrivi Prima dell'ultima curva Molto stretta Impervia Molto rompiballe E invece si rifà La curva piena La doppia curva piena Dove praticamente Valentino Rossi Fece il sorpasso Su Jorge Lorenzo Nel 2009 Quindi un layout Molto più snello E bellissimo Che ti permette Secondo me Di goderti di più Pure la gara Penso sia una figata E ora ragazzi Il momento Che tutti Ma proprio tutti Stanno aspettando Lui E' il muttone Tutto a 24.90 Però dopo lo trasmettiamo In streaming Pur su youtube Quindi abbonatevi Allora E qua c'è veramente Una bomba Che io non sapevo Perché guardate qua Red Bull Smetterà Prima o poi Di portare Ad ogni gara Dei camion Di aggiornamenti Altrimenti Nel 2022 Saranno indietro Di due secondi Questo diceva Toto Wolf Nel 2021 Quando Red Bull Portava aggiornamenti In ogni gara Ma anche Mercedes L'ha fatta Se per queste E lui già diceva Male alla Red Bull Quindi pensava Che Red Bull Non fosse stato in grado Di rispettare Il budget cup Ed invece Abbiamo visto Che Red Bull Poi nel 2022 Ha fatto la stessa cosa E poi ci si interroga Eh ma Red Bull L'avrà rispettato Il budget cup Io penso di no Comunque Ehm Dove sta? Helmut Marco Ha sottolineato Che non ci sarà spazio Per esperimenti O per gli errori Ogni pezzo Che sarà messo alla prova In galleria del vento Dovrà per forza funzionare E garantire prestazione Alla monoposto Che deve difendere I titoli conquistati Dalla sorella precedente Dobbiamo essere Parsimoniosi Sia con il budget Che con il tempo Impiegato in galleria del vento Ha detto Marco Non c'è spazio Per esperimenti o rischi Perché chiaramente La Red Bull Sapete che deve Comunque Madonna Maria De Filippi La Red Bull Deve comunque Scontare la penalità Che c'è La nuova vettura Non cambierà nulla Prima di Bacu Quarta gara della stagione In programma A fine aprile Dopo l'insolita Lunga pausa Figlia della cancellazione Del gran premio Della Cina Quindi vedete ragazzi Pure Helmut Marco Dice Non possiamo sviluppare Come vorremmo Perché abbiamo Dei limiti ben precisi E del budget cup E delle penalità Vedremo se comunque Red Bull Con questo Progetto Che ha presentato Potrà fare le prime gare In maniera pazzesca Fatemi sapere la vostra Ci vediamo nei prossimi video Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh Dice